Entro un paio di settimane saranno avviati i lavori di bonifica propedeutici alla riqualificazione dell'area di risulta Pescara. Sui 13 ettari di terreno a ridosso della stazione ferroviaria sorgeranno dei parcheggi multipiano a Silos, un parco centrale, un nuovo terminal bus e la nuova sede della regione Abruzzo, così come previsto dal maxiprogetto da 20 milioni di euro di fondi Masterplan. Una volta avviati i lavori di bonifica del terreno saranno ultimati all'incirca in 120 giorni, assicura il sindaco Carlo Masci, e rappresenteranno il primo passo verso la costruzione del nuovo volto della città di Pescara. Quali sono i fondi a disposizione? Per ora abbiamo 20 milioni e mezzo di euro per l'intervento iniziale, poi ce ne sono altri 20 milioni, tutti i fondi pubblici. Quando noi siamo arrivati l'idea era quella di privatizzare sia i parcheggi e non soltanto quelli dell'area di risulta, anche quelli di tutto il centro della città e poi di realizzare un centro commerciale e palazzi residenziali, quindi oggi il processo è completamente diverso, tutto pubblico, uno spazio che è giusto che rimanga dalla comunità pescarese. Abbiamo già avuto contatti con l'impresa di Reggio Calabria che ha vinto il bando per la bonifica dell'area di risulta e che è il primo passo per la riqualificazione complessiva di tutto quello spazio al centro della città. Il costo della bonifica supera i 3 milioni di euro. Dopo la bonifica si proseguirà con il progetto del risulta complessivo, prima della fine della consigliatura, il bando per il parcheggio lato sud di circa 800 posti macchina e per il grande parco di 6 ettari e mezzo, perché oggi abbiamo una disponibilità complessiva di 20 milioni e mezzo di euro, nei quali ci sono anche circa 500 mila euro per il terminal bus che realizzerà la tua. Anche quell'opera è già stata appaltata, quindi partirà immediatamente dopo. Si proseguirà per realizzare il palazzo della regione che dovrà contenere anche un auditorium per organizzare iniziative e poi la biblioteca regionale, quindi una grande trasformazione urbana. La regione ha inserito ulteriori 20 milioni di euro nella programmazione dei fondi di sviluppo e coesione e con quei 20 milioni di euro ovviamente avremo la possibilità di realizzare anche il secondo parcheggio lato nord. Cambierà qualcosa per la viabilità in questa prima fase dei lavori? No, non cambierà nulla. Noi abbiamo chiesto la garanzia che nell'area di risulta rimangano comunque mediamente 1600-1700 parcheggi perché quella è un'area fondamentale per la nostra città.